I tassisti sono fermi nel dire no all'ingresso del mercato delle multinazionali. Il presidio stamane si è fatto sentire a piazza plebiscito come nelle altre piazze d'Italia. Presenti i delegati delle sigle sindacali di categoria, la protesta è contro la riforma del settore. I tassisti rilanciano. Se entro il 22 marzo non ci sarà l'incontro chiesto al Ministero dei Trasporti per definire l'avvertenza, sarà indetto lo sciopero nazionale. Alla fine già siamo stati penalizzati. Questo allargamento degli NCC invece di entrare in rimessa è stato allargato alla provincia. Gli NCC potranno sfruttare i contratti che hanno fatto in essere prima di gennaio e quindi hanno avuto una proroga di due anni. Quindi praticamente non è cambiato assolutamente niente. Il concetto è anche un altro, è molto semplice. Io non posso tollerare che avvenne una multinazionale, mi vende un lavoro che già è mio. Senza la torta quella è, e io gli devo dare una percentuale sul lavoro che già è mio perché praticamente è dotato di un'applicazione super tecnologica. Noi non siamo contro la tecnologia, noi siamo chi la usa in un certo modo. L'antitrust dovrebbe intervenire tranquillamente, cosa che non va. E questa è un'altra cosa che noi ci stiamo ancora domandando. Antitrust, a dove stai? E tassisti, continua a subire come stiamo subendo con gli NCC e tutta una serie di situazioni.